Buongiorno a tutti e ringrazio Emanuela per l'invito. Oggi siamo qui per interrogarci sui temi del talento e sui temi della mobilità. Ci faremo aiutare anche da alcune immagini che chiedo alla regia di mandare e anche da alcune domande, perché è sempre importante partire dalle domande per poi arrivare a quelle che possono essere delle azioni. Si parla tanto di Great Resignation, di Big Quit e di Attrition Storm. Questi sono degli elementi che sono un po' sui vari titoli ed è un fenomeno che è partito dagli Stati Uniti. Quindi vediamo un po' alla prima domanda. Quale sarà la prossima sfida, visto questo fenomeno che ci sta raggiungendo, anche se con peculiarità diverse. Io penso che la grande sfida sia attrarre il talento, quindi fare in modo che questa immagine, dove ci sono tanti punti che sono dispersi su questa strada, siano in qualche modo attratti, come se ci fosse una calamita a portarli verso una direzione. Quindi partendo un po' dai dati, come dicevo prima, i dati ci dicono che sicuramente c'è un fenomeno che vede al mercato americano con il 41% di persone che stanno cercando un nuovo lavoro e in Italia c'è un fenomeno un po' diverso, c'è una ricerca attiva e una ricerca diciamo non attiva, quindi c'è qualcosa che si sta muovendo ma con specificità diverse. Quello che abbiamo fatto in Glicon, che è una società appunto che si occupa di people experience e analytics, è partire dall'ascolto. Abbiamo fatto un'indagine su 9 mila candidati, quindi persone che attraverso Glicon si sono candidate a delle posizioni nelle aziende nostre cliente e abbiamo visto che, come un po' questa immagine ci riassume, la grande richiesta è quella di flessibilità e di innovazione. Ma c'è una parola che spunta anche ed è molto importante, quella dell'impatto. Quindi un po' queste tre parole guideranno anche il racconto, flessibilità inteso non come la flessibilità di un materiale, di essere flessibile perché siamo persone, siamo esseri umani, ma flessibilità inteso anche come spazi, luoghi, momenti, così come l'innovazione che va a diretto contatto con l'impatto. Quindi flessibilità di luoghi, come dicevo prima, è flessibilità di tempi. Questa immagine ci dice che il 69% dei lavoratori in Italia ha orari fissi, il 15% lavora su turni e solo il 16% ha un lavoro cosiddetto agile. Ma la cosa più forte è che 7 lavoratori su 10 cercano attivamente un lavoro che abbia appunto questa capacità di avere maggiore flessibilità. Devo decidere io quando lavorare, devo decidere io dove lavorare, ma soprattutto posso decidere io come lavorare. Innovazione e nuovi stimoli. Il 72% delle persone che cerca lavoro vuole provare nuove esperienze in settori professionali che non hanno mai toccato prima e il 67% della popolazione attiva vuole allargare, quindi un tema anche di visione, i propri confini per apprendere nuove competenze. È da qui che partiamo, dalla voglia di curiosità, dal fatto che non ci muoviamo tutti nello stesso modo, ma ci muoviamo tutti, ci vogliamo muovere tutti verso appunto una curiosità, una ricerca. Mi piaceva molto questa frase del Talent Acquisition Director di Yahoo perché mette al centro proprio il tema della personalizzazione dell'esperienza. Non è forse nulla di nuovo, ma quando si parla di personalizzazione dell'esperienza e si parla di persone c'è sempre qualcosa di nuovo, perché noi esseri umani ci muoviamo senza regole precise, decidiamo anche a seconda di quello che è il momento che stiamo vivendo e quindi bisogna ascoltare. Partendo dal dato e dal po' significato che ci ha dato questo quote, ne prendiamo un altro che l'abbiamo raccolto attraverso Glicon. Ed è proprio attraverso le parole e questo quote che ci ha ispirato che vi voglio portare anche un'altra testimonianza, presa da Glicon, dalla nostra piattaforma. In questo caso è Giovanna, una candidata che ha applicato a una posizione attraverso la nostra soluzione. Ed è bello leggerla insieme, dice la prima esperienza digitale che mi ha permesso di mettere in luce le mie competenze e di ricevere un feedback personalizzato. Quindi anche i candidati vogliono ascoltare, hanno bisogno di ascoltare per sentirsi, lo dice qui lei, persone e non semplicemente numeri. È molto forte ed è talmente forte che poi se andiamo su un cluster più ampio di 9.000 persone, appunto come dicevo prima, che abbiamo un po' ascoltato, è che l'orientamento del lavoro in qualche modo cambia tra uomo e donna, ma quelle keyword che abbiamo visto all'inizio, il tema della flessibilità, della generazione di impatto e se vogliamo anche dell'innovazione restano. È chiaro che essere flessibili è un tema molto importante anche per gestire la vita familiare con la vita professionale, è importante anche per fare in modo che l'impatto sia derivato da uno stare bene. Ecco, tutto questo ci porta a chiederci anche se c'è una differenza tra generazioni e vi posso dire che in Italia c'è e lo sappiamo. Ci sono generazioni che guardano o comunque persone, a prescindere da generazioni, che guardano con maggiore occhio a un tema di stabilità. Quindi sì mobilità, ma non escludiamo da questa conversazione anche che avremo oggi la parola stabilità, perché c'è anche questo da guardare. Anche nella stabilità si può andare alla ricerca di mobilità. Qui ho voluto lanciare una provocazione, perché si parla di mobilità, si parla di impatto, si parla di innovazione, si parla di flessibilità. Ma come si può essere flessibili? Me lo diceva un manager e quindi riporto un po' le sue parole, se noi guardiamo alla cosa meno flessibile che c'è, che è questa. La busta paga, il cedolino, per chi fa un lavoro dipendente, dove c'è scritto ore lavorate, giorni lavorati. Cioè siamo incasellati in qualche modo in questo sistema, dove si misura anziché l'impatto, come ci chiedevano i candidati, si misurano le ore, si misurano i giorni, si misurano i roll, si misurano le ferie, quasi che il momento di ferie vada misurato in tal senso. Ecco, tutto questo mal si sposa con una cultura invece della mobilità, della mobilità che va oltre questo schema. E quindi un'altra immagine suggestiva. Dobbiamo interrogarci come manager, come responsabili di team, come orientare verso un risultato, come misurare questo risultato nel tempo, come ascoltare il talento, perché siamo partiti da lì, la grande sfida sarà attrarre il talento, essere magnetici verso il talento. E sicuramente le persone sanno scegliere, sanno scegliere se guidate non semplicemente, adesso si parla tanto di purpose, di cultura aziendale, di valore, di virtù, ma soprattutto da comportamenti agiti, da quella che è un'innovazione che mi porta a eseguire un comportamento e non semplicemente ad eseguire un compito. Si fa molta confusione tra quella che è un'attività e quella che è un outcome, un obiettivo, un KPI. Ecco, forse partiamo dal lessico, partiamo da chiarire come andare oltre quello schema che abbiamo visto prima, delle ore lavorate e dei giorni lavorati. E qui anche, insomma, ho provato a dare un po' di suggestioni. Noi in Glicon diciamo falla semplice, che è il nostro motto, simplify human experience, e quindi esperienze semplici. Creare lavoro è un lavoro, perché dobbiamo renderlo più complesso? Perché non agevolare la ricerca di un lavoro nel modo più semplice possibile? Come se io lo chiedessi a una persona, come se fosse un incontro, un caffè tra persone. Agevolare ed abilitare le esperienze umane che ci sono dentro l'organizzazione, attraverso la voce, come una voce. Fare in modo che arrivi la voce, arrivi la temperatura dell'essere umano. Quindi io posso essere ispirato da una persona che lavora in azienda, sento la sua voce, sento il suo racconto e vado oltre questo tema dell'incasellamento. E da ultimo esperienze personali che siano trasparenti, che riflettano anche come uno specchio. Perché si parla tanto di inclusione, ma dobbiamo fare in modo che ci sia veramente la vera diversità, che ognuno possa scegliere. Ecco, questo è un po' lo stimolo, la scelta, abilitare alla scelta. E una scelta deve essere semplice, perché la complessità non abilita la scelta. Glicon lo fa, e quindi non mi sono presentato all'inizio, vi do giusto qualche numero, siamo diventati Gartner, citati da Gartner proprio sul tema della voice of employee e ci fa piacere perché è un segmento molto importante, quello dell'attrazione del talento e anche, se volete, della retention. Fare in modo di trattenerlo, non semplicemente attrarlo. E abbiamo, diciamo, operiamo nel business, nel B2B, quindi con clienti che chiaramente hanno questa voglia di guardare al mondo dei candidati e dei colleghi, no? Fatemi dire oggi dipendenti. Lo facciamo in semplicità, quindi con una semplice barra di ricerca. È un po' come vedevamo prima, anche nel momento che insomma vi rappresentavo in modo provocative, che andare oltre quelle caselle, giorni lavorati, eccetera, se volete è misurare l'influenza, misurare l'esperienza. Noi abbiamo pensato a due indici in piattaforma che sono proprio l'experience index e l'influence index, quindi se vogliamo ancora una volta l'impatto che io ho e l'esperienza che vivo, quindi la flessibilità, l'innovazione, tutti quei momenti che abbiamo visto nelle immagini che ci hanno preceduto. E da ultimo la voce. La voce, noi abbiamo lanciato un podcast e lo mettiamo in piattaforma proprio per fare in modo che anche i manager si possano raccontare, ma chiunque. Abbiamo raccontato storie di Instagrammer che hanno cambiato vita grazie proprio al mondo dei social media. Quindi perché i social media non possano essere un nuovo veicolo per esempio per attrarre persone, attrarre candidati? O perché non interrogarsi su quali possono essere i benefit? Oggi i benefit non sono più quelli di una volta o almeno non si cercano più semplicemente dei benefit materiali, ma si cercano dei benefit che vadano verso l'essere umano. Questa è un po' la grande sfida per non riempirsi soltanto di un titolo che è quello della Great Resignation, del Big Quit o di questo storm che di fatto ci sta prendendo, ma che questo storm di fatto diventi una calamita, un orientarsi verso le persone. Grazie.